Sono trascorsi oltre tre anni da quel 16 gennaio 2019, quando la E45 fu chiusa in entrambe le direzioni nel tratto Val Savignone-Canili per criticità riscontrate sul viadotto Puleto. Confindustria allora parlò di un disastro annunciato e della necessità di garantire subito collegamenti alternativi, ripristinando l'ex statale Tiberina Trebis. Il rischio che problemi del 2019 adesso si ripetano però sarebbe dietro l'angolo secondo il responsabile Aretino dell'Associazione degli Industriali Alessandro Trarquini. Nel 2019 l'allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti riconobbe il ruolo strategico della viabilità alternativa e la necessità di riqualificare la Tiberina Trebis, attualmente classificata comunale, riconducendola statale alla competenza ANAS. Nel frattempo il comune di Pieve Santo Stefano aveva richiesto ad ANAS e al Ministero il ripristino urgente, ma ancora oggi la situazione continua a rimanere estremamente problematica. ANAS, prosegue Tarquini, tra l'altro ha recentemente comunicato che i lavori per la messa in sicurezza del Puleto potrebbero riprendere dopo il 15 aprile, lavori che potrebbero però di nuovo inibire il traffico veicolare sulla E45. Nel 2019 prosegue, in virtù di una nuova convenzione, ANAS ha provveduto ad una revisione progettuale dell'importo complessivo per i lavori, calcolato in 15 milioni. Era così partita la dichiesta al Ministero di ulteriori finanziamenti, ma lo scorso maggio il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha rilevato l'assenza di presupposti per riconoscere la Tiberina Trebis viabilità di interesse nazionale. A fine 2021 è stato poi approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere risorse finalizzate al ripristino dell'arteria, ma dopo tre anni non c'è nemmeno la conferma della prima disponibilità di fondi di 2 milioni e mezzo annunciati nel 2016. I danni prodotti dall'interruzione dell'E45 del 2019 sono stati calcolati in un importo che oscilla tra i 20 e i 27 milioni di euro. Danni che potrebbero ripetersi in futuro se non si interviene secondo Tarquini che in conclusione si chiede se non costerebbe meno investire una somma più bassa e sistemare così definitivamente l'ex Tiberina Trebis.